Fai le cose che ti piacciono, usa carta aura. La gialappa, in Sud America è conosciuta per questo effetto. Rompete! Da la tauromaggio! Da noi invece. Uno, due, tre. Adesso! No! È un toccasana rilassante. Non rinunci, 64 milioni! Io! 120 milioni! Contro il logorio della tv moderna. Balla la lada del Filippo, perché non devo ballare anch'io. Ma hai dire gomma, la radice comica di Italia 1. Tutto tranquillo, non so bene, sono cose che faccio! Questa sera alle 20.40. Non mi spogliare, grosse! Chi ti fa conoscere i protagonisti al naturale? È solo chi. Questa settimana rende Ingerman il mio sì ai Caraibi e tante altre storie di personaggi famosi. Li conosci davvero, li conosci su chi? Ah, bello. E tu mi fai stare tre ore immobile per fare sta roba qua. No, dico bello, eh. Esprimo la mia creatività. Adesso te lo faccio io ritratto. In sette minuti. Cucina creativa Buitoni. La paella. Questa sì che verrà arte. Senti che profumo. Ci metto pure la firma. Pomodoro, limone, grattugiato. Buono. Ma il mio ritratto? Guarda sto Tottenham. Non ti assomiglia. Ma, manca gli occhiali! Ma Buitoni. Cucina creativa. Buitoni. Star da Emi a tavola. È ancora fresco. Nuovo colgato e fresh confidence combatte i germi per darti un alito fresco per ore e ore. Panorama presenta Al di là della vita con un grande Nicolas Cage diretto da Martin Scorsese solo con Panorama. Cosa ne pensa della nuova Micra? Micra? Mai vista. In città è pieno. Qua mai fermata. Via, via, che c'ho da lavorare? Lei conosce la nuova Micra? Sono tutte così e ve l'hai già chiuso. Lasciatemi solo. Andate via, lasciatemi solo. Lei cosa ne pensa della nuova Micra? Bellissima! Sicura, poi spaziosa, comoda. Praticissima, si guida con un dito e non consuma niente. Nuova Micra, a partire da 16 milioni con incentivi Nissan. Chiedi a chi una Micra ce l'ha già. Sai una cosa? Penso che abbiamo bisogno entrambi di un po' di compagnia femminile. Potremmo chiacchierare, ridere, scherzare, sognare. Con Lovet Laikos puoi fare colpo stando comodamente a casa tua. E adesso chi sarà mai? Chattare, trovarsi, divertirsi su www.laikos.it Grazie. Grazie. Grazie.